decisione imparabile per Cerroni. Città va via Balde entra in area senza falla ancora Balde steso e c'è attenzione calcio di rigore per la Lazio. 1 a 0 un gol tanto cercato quanto voluto. Un gol pesante un gol voluto un gol cercato questo 1-2 proprio che si è materializzato. Ancora Balde palla in mezzo Crespi al volo non trova l'impatto col pallone la posizione era regolare. Sì sembrerebbe di sì le fa da solo va via in velocità proprio Balde che ha un po' di spazio ha bisogno di supporto all'indietro Coulibaly Dutu imbucata verso Gonzales è piazzato 2 a 0 per la Lazio ancora con Diego Gonzales. Si è fatto pronta ad entrare Napolitano ma seguiamo l'azione della Lazio Balde morbido verso Bertini in uscita al portiere ancora Bertini che lo scavalca Balde l'anticiato lungo verso Balde la mette giù ma in marcatura controlla il pallone si prende il fallo top qui. Sì molto la linea 4. E di Balde gioca il pallone verso Crespi. Il fatto Balde andare a recuperare il pallone lo fa anche con ostinazione insiste ancora il giocatore della Lazio che poi si prende il fallo. Bravo qui Balde offre a Balde l'indietro Lazio adesso può impostare senza problemi. L'ha fatto vedere di Tommaso. Eccolo Balde si attiva lui salta bene un avversario entra in area appoggio gran parata del portiere Balde stersata a sinistra verso Crespi 3 a 1 per la Lazio come all'andata anche al ritorno la firma è sempre la sua. In velocità ancora Balde chiuso però da Cerroni. Messo in calcio d'angolo. Centra Balde fa da solo cerca un angolo di tiro ma non lo trova. Poi Rossi la punizione però è a favore della Lazio. Destro blocca però Kikarel. Sì Balde in questa posizione diciamo centrale ha trovato un po' a... Balde che si è staccato senza centro. Ancora Balde zona tiro piazzato di Balde. La deviazione di Rinaldini che mette in angolo. Delle portiere poi ancora la Lazio e questa volta Balde lo sbaglia. La Lazio sblocca il risultato. Sì si sblocca Luca con Balde bellissima azionata di Marco. Il massimo Crespi poi Balde entra in area calcio di rigore per la Lazio. Rigore netto Luca. Balde altra punizione. Molto reattivo. Si accentra zona tiro calcia però in bocca Kikarella. Sì non riuscire a dare forza l'intenzione era di fare un po' un tiro a giro. Balde zona tiro va di potenza risposta di Di Carlo che dice di no ma non è finita. Crede. Monopoli aspetta dentro l'aria lo scambio dei due palla dentro calcio di rigore per la Lazio. Calcio di rigore forza di Balde che fa una zero spiazza il portiere e la Lazio di calità c'è anche in primavera non solo in prima squadra. Balde va in velocità passa in mezzo a due palla dentro a cercare Crespi resta lì il pallone San Fernandes. Corre la Lazio in velocità di Tommaso nello spazio. Recupero palla però per la Lazio poi Crespi. Miglior attacco 26 gol subiti miglior difesa sette successi consecutivi 18 risultati utili. Esce Calvani poi il pallone resta lì e arriva il gol di Gonzales il gol di Diego. Più attenzione concretezza in questi momenti momenti chiave che possono insomma stappare una partita al momento bloccato. C'è un po'. Balde magia punizione per la Lazio. Bene Balde. Petto Ruggeri poi arriva Balde. Traversa clamorosa non è. Senta in aria sterzata pallone sul sinistro appoggio per Napolitano controllo e tiro. Cade a terra calcio di rigore per la Lazio. Non ha avuto dubbolo. Poi appoggio su Floriani può distendersi la Lazio sull'auto di destra accelerata di Floriani Mussolini che mette la quinta. Palone in profondità di Balde per Gonzales. 1-0 Lazio dopo quattro minuti la sblocca a lui. La sblocca bellissimo. Quanto riguarda Limolese uno già dell'anticipo al numero venti di Verani. Perfetto tra poco faremo ordine. All'indietro verso Bedini intercettato però questa combinazione nello stretto. Davanti al portiere arriva Sanna Fernanda spiazzato. 3-0 gioco partita incontro. Balde che se ne va palla al piede. Tenta la conclusione strozzata finisce fuori. Piuttosto compatta però abbiamo visto quando abbiamo cambiato gioco quando si va sugli esteri. Mette giù Balde anche con eleganza. Bertini con ordine di Tommaso. Lazio 4 Pescara 1 in gol anche Marco Bertini. In gol da custodire. Milani quindi Sanna Fernanda se spalla la porta si gira. Non pattare rinforzi. Dentro c'è Gonzales. Uno contro uno palla dentro per Gonzales. Stappa lui la partita. Tirato benissimo.